Forza Italia Pugliese è una polveriera all'indomani della sconfitta alle elezioni del presidente della provincia di Foggia. Uno schiaffo per l'uscente Nicola Gatta, battuto sul filo di lana dal centro-sinistra, che si è presentato unito al contrario del centro-destra, spaccato in due per la candidatura concomitante di Di Mauro, appoggiato dalla Lega. In realtà sull'eghista Di Mauro sarebbero confluiti anche i voti del consigliere regionale azzurro Paolo Dell'Erba, tanto che all'indomani del voto i coordinatori pugliesi di Forza Italia, Damiani e Dattis, lo hanno accusato di aver tradito le direttive del partito proponendolo per l'espulsione. Dell'Erba però respinge le accuse e rivendica a gran voce di avere tutti i titoli per rimanere in Forza Italia, appoggiato dal capogruppo alla regione Mazzotta, che martedì lo ha accolto a braccia aperte in aula, ignorando la scomunica dei vertici del partito. Sullo sfondo c'è la nomina del nuovo segretario dell'ufficio di presidenza, in sostituzione del consigliere Giandiego Gatta, eletto in Parlamento. Lo strapuntino, con tanto di autista, personale di servizio e aumento di stipendio da 1000 euro al mese, spetta a Forza Italia per titoli, età ed altri requisiti toccherebbe a Dell'Erba, a meno che per il consigliere di Sansevero non arrivi da Roma l'espulsione ufficiale dal partito. In questo caso il candidato naturale di Forza Italia sarebbe Napoleone Cera. La prova del 9 però è attesa per il 14 febbraio, quando l'Aula voterà a scrutinio segreto l'elezione del nuovo segretario.